Il tema conduttore di Progetto Mandela quest'anno è lo straniero, essere stranieri. Diciamo che è una prosecuzione di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo parlato di migrazioni, di migranti, di storie di migranti e dei destini di chi appunto non ce l'ha fatta. Quest'anno vogliamo svolgere un po' il nostro sguardo su quello che è essere stranieri in un paese che non è il proprio. Ma questo non è soltanto per chi arriva in Italia ma anche un po' ricordare la nostra memoria di paese di grande emigrazione nel passato e in questo momento ci sono anche tanti italiani che vanno all'estero per cercare lavoro e dunque essere stranieri può essere declinato in tantissimi modi. Questo cercheremo di farlo, lo faremo con i ragazzi, lo faremo coinvolgendo anche i ragazzi ospitati, i profughi ospitati qui a Terni in collaborazione con l'Arci. Cercheremo di affrontare una tematica molto molto complessa confrontandoci con le realtà degli immigrati, dei migranti che vivono a Terni, delle comunità degli stranieri, io lo metto sempre fra virgolette, che vivono qui a Terni. Ecco questo è il tema, poi le modalità sono varie, c'è sempre in mezzo al centro c'è il teatro, fare teatro, però con tante novità quest'anno, specialmente per delle sperimentazioni sulla nuova tecnologia.